Brusco calo delle temperature con la colonnina di Mercurio scesa sotto lo zero e primi fiocchi di neve sul Molise. La Coltrebianca ha già raggiunto qualche centimetro in alto Molise. Qui siamo a Capracotta, l'immagine di stamattina immortala. Corso Sant'Antonio, imbiancato. Neve, poca a dire il vero, anche a Campitello Matese non abbastanza per preparare le piste e concedere agli amanti dello sci l'esaltazione della discesa. Gli impianti sono pronti, collaudate a tempo di record, gli operatori incrociano le dita in attesa che nevichi sul serio con le previsioni che a dire il vero non promettono nulla di buono e rallentano per il momento la stagione invernale. Spolverata anche a Frosolone, le immagini si riferiscono a Piazza Alessandro Volta. Poca neve, molto ghiaccio ed è proprio questa l'insidia maggiore soprattutto per pedoni ed automobilisti. Diversi gli incidenti questa notte, per fortuna, non gravi. Auto danneggiate e tanto spavento per gli occupanti ma nessuna conseguenza irreparabile sulla Trignina prima dello svincolo per Pesco Lanciano e prima della diramazione per Agnone. Sul posto i sanitari di Isernia Soccorso ed il soccorso stradale Ricci di Montaquila. Non si segnalano criticità sulle principali arterie della regione. Stamattina questa è la situazione sulla strada statale 17. Carreggiata completamente libera, manto stradale pulito anche sulla 87 che conduce nel capoluogo di regione. Le forze dell'ordine tuttavia raccomandano massima prudenza per chi è in viaggio. Vento forte e mare agitato sulla costa per il secondo giorno consecutivo interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le isole Tremiti a causa delle avverse condizioni meteo. La motonave merci e passeggeri isola di Capraia è rimasta ormeggiata nello scalo in via precauzionale anche questa mattina.